Febbo, la Regione parla di risanamento per quanto il centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti, voi non siete dello stesso avviso, perché? Credo che in questa Regione da un po' di tempo si raccontano le favole, tante favole ripetute più volte ma credo che la gente non ha mai cominci a capire. Ci spiace dover smentire ciò che ci ha detto il Presidente D'Alfonso perché speravamo che in questi due anni si risolvesse il problema del mercato ortofrutticolo perché è un bene che ha la Regione Abruzzo e che la Regione Abruzzo non può perdere ed era un percorso che aveva iniziato e si poteva facilmente concludere. Mi sembra che in questo caso si sta solamente affossando il mercato agroalimentare perché l'unica operazione che è stata fatta è quella di assorbire una ditta che ha ben sette dipendenti e che faceva un certo tipo di servizio all'interno del mercato. Quindi si è aggravato il conto economico, si è appesandito il conto economico dell'agroalimentare peraltro senza capire che lì la voce fortemente negativa dell'agroalimentare è costituita soprattutto dal patrimonio che deve essere portato in ammortamento sul bilancio e porta sempre ad una perdita. Su questo bisognava concentrarsi e trovare la soluzione che era facilissima quella di riacquistare le quote a costo zero chiaramente perché doveva essere forza zero delle quote degli altri enti che partecipano. Risolto quel problema l'agroalimentare può decollare. Qualcuno invece ha preferito fare un'altra strada, vedremo dove porterà quest'altra strada.